Ok ma questo scusate Ma questo non se ne era neanche accorto Ok si 117 Perfetto boomboxato Boom boom e let's go Ragazzi che vi piacciono La mia skin è da nabino ed è giusta la skin Perfetta per questo video Ma prima che inizi ragazzi vi ricordo importantissimo Che per shoppare tutte queste fantastiche skin Dovete utilizzare il codice creatore Ferro da stiro con due o Nel negozio oggetti ovviamente per supportarmi Al massimo, guardatelo tutti ci mettete come vedete Da me 3 secondi forse Forse anche addirittura meno E nello stesso tempo mi supporterete al massimo Quindi grazie mille a tutti se volete essere dei veri ferro da stiro Dei veri fan, dei veri supporter Inseritelo, grazie mille a tutti Oggi ragazzi da come avrete letto dal titolo ci fingeremo nabbi E trolleremo tutti i pro player della partita Come vedete ragazzi ho messo una skin Da davvero davvero nabbissimo Cioè questa skin qua non è da nabbo Ma da nabbissimo ovviamente Questo lo killiamo subito magari col piccone pure Poverino a cacca marshmallow Comunque da adesso ragazzi dovremo trollare Tutti i pro player, cavalieri E tutte le persone forti che comunque Troveremo in partita fingendoci appunto nabbi Alla fine ragazzi ci basterà guardare in faccia le persone Che sicuramente loro Purtroppo non potremmo mai vedergli la faccia Però sicuramente si metteranno a ridere Cosa proprio ascoltata Perché c'è chi è che non ride ragazzi Vedendo una skin così Era la skin vecchissima più divertente che c'era Comunque allora ragazzi ora Oh cavolo mamma mia quanto mi ha spaventato Oh ma Marigold Non farmi spaventare per favore Comunque ragazzi sarà pure divertente Una volta che killeremo i nemici Quando loro adesso Tipo lui che mi sta aspettando Cosa mai penserà una persona che È stata killata dal tizio sul lama Cioè Regà io davvero sclererei di brutto Non so se potrei giocare ancora una partita Dopo quello che ho appena visto Comunque allora qua intanto Che cavolo di bellucci è Scusate Ma io devo fingermi nabbino eh Ciao Balliamo No vabbè no 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 Ballare è un po' troppo ragazzi Ballare potrebbe Davvero rovinargli tutta la giornata Queste povere persone Intanto perché hai due Mi speckano in uno Vabbè Questi sono solamente Cose inuti Allora comunque ci sta una persona qua Che direi di andare subito A distruggere Fermi fermi Che è salita Ma che cavolo Ma che Eh Regà Ma che cavolo Dove si trovano le persone Vabbè intanto io direi di prendere Questa di eagle Ok sta qua sotto Fermi tutti Guardate ragazzi Guardate ragazzi Ok ma Questo scusate Ma questo non se n'era neanche accorto Ma che cavolo sto vedendo Comunque sto Mi sto beccando nabbini Io vorrei trovare dei pro player Dove Tra cui quelli che posso trollare appunto Ok fermi tutti ragazzi Qua ci sta una persona Ok un 33 l'abbiamo tirato Fermi tutti Dobbiamo Dimostrargli Che qua Ferro da stiro Il nabbino Perché si ragazzi Oggi sono ferro Ferro da stiro Il nabbino Può devastarli completamente Allora fermi tutti Tanto Ti riesci a fermare un attimo Fermi Ok l'abbiamo fullboxato Io vorrei dimostrargli Che sono Signore in Italia Con ieri Noia Fermi Non mi sparare Che cavolo Appena la smette Ragazzi Chigliamo velocemente Questo Ok perfetto Si forse abbiamo un po' esagerato Con questo Dovevamo fingerci un po' più nabbini Magari Però lui sembrava un pro player Quindi abbiamo fatto anche bene A trollarlo Intanto Fermi tutti Allora Qua ci sta un po' di ferro Che sei di ferro Ottimo E ora ragazzi Il tizio ci sta Pushando in una maniera Molto molto Fermi No 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 Tutte le granate Tecnica delle granate Bruttissima Si va bene Quanta gente c'è Ragazzi Io voglio bene a tutti Però per favore Fermatevi un secondo Questo c'è pure lo spascavoli Pure il lancerale Ma che cavolo ragazzi Questo non era pro player Di più ancora Che ragazzi Siamo in una nuova partita Comunque Sto ancora rositando Per quel pro player Che più Era più che pro player Che mi ha distrutto Però dai Aveva scara Aveva lo spasso Aveva il lancerale Aveva tutto Poverino Comunque Questo ragazzi Sembra abbastanza forte Quindi Diciamo la vittima perfetta Oh cavolo no Forse un po' troppo forte Pure questo Fermi Io comunque Devo trovare pro player Però non esagerati Diciamo Ok si 117 Perfetto Full boxato Boom Boom E lesgo Caro il mio amico pro player Sei stato distrutto Da un abbino E direi di fargli Il ballo della navicella Così Ok Ha acquittato Questo qua proprio Direttamente acquittato Comunque ragazzi Devo ammettere Che fingermi in abbino E trollare le persone Sì intanto Non sparare a caso Comunque Fingersi in abbino E trollare le persone È un sacco Ma un sacco divertente Quindi Fatelo tutti Inserite tutti Il codice creatore Ferro da siro Con due Nelle Leggozio oggetti Per supportarmi Sempre al massimo Cavoli Intanto ragazzi C'è un nemico qua davanti Aia Che mi ha pure danneggiato Parecchio La fermi tutti Fermi tutti Mi devo tirare questo Intanto cavoli Rega ho pochissimi maz Non sparare con la mia Ecco appunto Ecco appunto Rega Proprio quello che Non volevo Lui l'ha fatto Adesso mi tira giù un'altra Non fermi Non sono riuscito a tirare il mini Ok fermi Un 27 Io abbiamo tirato Porca vada no Si ma Dopo me la spiegherete Perché tutti hanno lo spasso E perché io sono sempre L'unico Senza Spasso Intanto un 27 Craccato Gli abbiamo ancora tirato Let's go Rega Non ci credo Fermi tutti Ok no 218 i mazzi Abbiamo Rega Uno di vita Questo non era Pro player ancora Ma perché sto beccando Tutta gente troppo forte Rega Qua mi sa che più che Fingermi nabbo Devo fingermi Ultra pro player Per distruggerli direttamente Perché Qua rega Poi tutti messi benissimo Ma che cavolo C'hanno tutti oggi Vabbè ragazzi Ora devo andare subito A trovarmi un medikit Perché qua mi sa che Finisce molto Ma molto male Ok mi accontento Pure delle bende Comunque ci vediamo Dal prossimo pro player Ragazzi Beh ragazzi ho capito Devo prendere una navicella Per trovare persone Perché Questa è la season In cui non ci sono persone Cioè O meglio Le persone ci sono Ma solamente il numero Perché ci sono 16 persone Ma io non ne vedo neanche una Cioè Vedo io Me stesso E basta Ok ragazzi Ok ragazzi fermi Navicella Liena Non spariamoci Tanto non ci beccheremo mai Ehm Ci spariamo entrambi Ok fermi Io l'hito Guardate Anticipo Oh Oh Mi sa che qualcuno si è abbonato Grazie mille che si è abbonato Ok raga grazie Non sono in live Ve lo giuro Non sono da nessuna parte Però uno si è abbonato Quindi grazie mille Per essere entrato Nella gang Del ferro da stiro Intanto Ehm Persone Fatevi vedere Perché sto perdendo troppo tech Cioè io non voglio Perder tempo a girare a caso Voglio uccidervi voi Non so se si può dire Voglio uccidervi voi Però va bene ragazzi Facciamo finta di nulla Anche perché Abbiamo trovato gente Quindi siamo contenti Siamo contenti Intanto c'è una navicella da là E questa cosa mi fa molta paura Quindi me ne sto anch'io Sulla navicella Se sta cosa Non è un problema E Uccidiamo O almeno proviamo a uccidere Questo nemico Allora E un 30 Gli abbiamo girato Boom Un altro 30 Perfetto Guardate ragazzi Guardate come schivo Lui adesso penserà Ma questo è un nabbo Non scende dalla navicella E lo sa lui che esplode Sì sì ragazzi Lo so che adesso esploderà La navicella Nel frattempo Come vedete L'ho devastato Andiamo a posciarlo E a distruggerlo Oh Impattito No way ragazzi Ma cosa Ma perché succedono tutte queste cose A me E questo qua Non ci ha capito nulla Invece Mi è riuscito a uccidere Come non so cosa Ragazzi Io penso di sclerare Perché ultimamente Tutte le partite Vanno a finire così Questo qua Ragazzi è andato dritto per dritto E mi ha itato ogni colpo Mi è entrato in ogni struttura Non ci ha capito nulla Eppure mi ha distrutto Ragazzi perché Devo fare questi video Se volete la parte 2 Dove fingo nabbo E trollo tutti i nemici Cercando di ucciderli Però e non trovare Mongra le benji Nella stessa partita E non ucciderli Lasciate almeno 3000 like ragazzi E dunque ragazzi Questo è il video Che mi è uscito Peggio di tutto Il mio canale Cioè era un video Fighissimo Dove mi fingevo Un lama Mi fingevo Un tizio sull'ama Che trollavo tutti i pro player Però mi è uscito male Vabbè Fatto a sta ragazzi E' stato molto divertente Comunque quindi Mi raccomando Lasciate like Ferro da stile Nelle cazziati Per supportarmi al massimo Iscrivetevi al canale Se ancora non avete fatto Social qua sopra Per tutte le news E detto questo Grazie mille a tutti per il video Vi prometto che a 3000 like Uscirà una parte Molto più bella E più seria Ci vediamo al prossimo video Grazie mille a tutti